Ben ritrovati cari amici telespettatori a questa nuova edizione del nostro giornale che apriamo con la cronaca in seguimento in piena notte tra Valmadonna e Valenza dove ci sono volute diverse pattuglie della polizia per bloccare una BMW con a bordo tre pugliesi che viaggiavano con un carico di strumentazioni per assaltare i bancomat nel tentativo di seminare i poliziotti i malviventi non hanno esitato a lanciare dall'auto dei chiodi a quattro punte ma sentiamo tutta la cronaca in questo servizio. E' finita con l'arresto la fuga rocambolesca di Leonardo Ferrara di 37 anni originario di Foggia Vincenzo Capone 35 anni e Gabriele De Simone di 32 entrambi di Cerignola sempre in provincia di Foggia i tre alle due di ieri mattina viaggiavano a bordo di una BMW con targhe bulgare arrivati nel tratto della colla tra Valenza e Valmadonna una pattuglia della polstrada di Valenza gli ha intimato l'Alt Ferrara che era la guida alla vista dei lampeggianti della polizia ha rallentato per poi partire come un folle a tutta velocità con la polstrada alle calcagna dal finestrino della BMW sono partiti dei chiodi a quattro punte che hanno la particolarità di cadere sempre con la punta rivolta verso l'alto gli agenti sono riusciti a schivarli mentre altri automobilisti sono stati meno abili di loro ritrovandosi poi con le gomme a terra l'auto sulla quale viaggiavano i tre ha continuato la sua folle corsa rischiando più volte di provocare incidenti stradali soprattutto in centro a Valenza fino a quando arrivati nei pressi dell'S Lunga il Foggiano ha perso il controllo andandosi a schiantare contro alcune auto posteggiate i tre sono usciti di scatto dalla BMW Ferrara è stato bloccato con non poca fatica dagli agenti uno dei quali si è anche procurato ferite guaribile in sette giorni mentre gli altri due grazie all'aiuto di due volanti d'Alessandria e di una pattuglia della polstrada di Tortona sono stati rintracciati poco dopo abbiamo rinvenuto all'interno del veicolo tutta una serie di strumentazione che è deputata prettamente allo sbancamento degli sportelli Bancomatta materiale esplodente ricavato da artifici pirotecnici che vengono acquistati al libero commercio praticamente viene scardinata all'erogatore di banconote viene inserita uno strumento particolare denominato marmotta riempito, questo strumento è cavo, riempito di polvere pirica viene acceso, viene fatta esplodere l'erogazione e il malvivente così si può acquisire tutte le banconote che sono all'interno del Bancomat si è approfittato di un conoscente in condizioni psichiche precarie per non pagare un conto salato confermata in appello la condanna a 3 anni e 5 mesi per circonvenzione di incapace a carico di un valenzano questa storia invece ce l'ha raccontata Emma Camagna ha negato fino all'ultimo ma come già non era stato creduto dal tribunale di Alessandria che lo aveva condannato a 3 anni e 5 mesi per circonvenzione di incapace non lo è stato neppure da parte della corte d'appello di Torino che ha confermato la condanna è il valenzano 54enne Camillo Maspi anche i giudici di secondo grado lo hanno ritenuto responsabile di aver approfittato di un Alessandrino da sempre affetto da disturbo della personalità e dal 2004 da depressione accompagnata da sintomatologia ansiosa a quest'uomo che per qualche tempo aveva fatto il consulente finanziario con esiti poco fortunati Maspi aveva chiesto in prestito 65 sterline d'oro lingottini pure d'oro gioielli vari con promessa di pagargli poco alla volta il controvalore non lo fece per di più lo convinse a dargli altri 19.000 euro e gli fece firmare assegni post datati con cui comprare gioielli dalla cui vendita sarebbero derivati i soldi per coprire quegli assegni alla fine l'Alessandrino si trovò con effetti protestati per 50.000 euro fece la voce grossa e Maspi dice l'accusa con un pugno gli spaccò la spina nasale alla fine si decise a fare denuncia costituendosi parte civile con Roberto Cavallone l'imputato ha escluso la violenza e ha detto che con la parte lesa ha sempre fatto affari più che correttamente sarà eseguita in questi giorni l'autopsia sul corpo di Paolo Viada il 49enne informatico casalese morto all'ospedale di Alessandria dopo essere stato trasferito da quello di Casale tutto iniziato con una banale caduta domestica prima che la vicenda finisse in tragedia molti dubbi sulla sua morte e il padre ha presentato un esposto in procura era un uomo molto religioso Paolo Viada il 49enne casalese residente nella frazione Garoppi di Monbello morto l'altro giorno all'ospedale di Alessandria per motivi che solo l'autopsia sarà in grado di capire sul suo profilo facebook le foto di Santi si susseguivano quasi quotidianamente a sottolineare quello che doveva essere un uomo molto dolce e sensibile una storia piena di angoscia quella che lo ha visto protagonista e che ha gettato nel dolore i genitori Denisa e Marco Viada lui ex carabinieri di quei personaggi che l'arma non l'abbandonerà mai una famiglia già minata dalla morte di un altro figlio Marzio avvenuta nel 2001 che oggi si chiede il motivo per cui Paolo ne abbia seguito le orme il 49enne era affetto da una malattia per la quale anni fa si era resa necessaria l'asportazione dell'ipofisi una patologia con la quale però conviveva senza problemi tanto che era perito informatico a Valenza l'8 ottobre mentre pranzava si era asporto con la sedia perdendo l'equilibrio e andando a sbattere con la testa contro la madia della cucina era cosciente raccontano i genitori che però hanno chiamato il 118 Viada è stato trasferito al pronto soccorso di Casale dove è stato sottoposto a un'attac il risponso era negativo per cui il medico di guardia ha deciso per le sue dimissioni nonostante l'informatico non desse alcun cenno di vita riportato a casa al mattino dopo i genitori hanno chiamato il medico di famiglia Paolo Ferrero di Murisengo il quale appena visitato ha disposto l'immediato trasferimento sempre all'ospedale di Casale ricoverato Paolo Viada continuava a rimanere in uno stato quasi di coma per cui il padre e madre si sono decise a interpellare Tiziana Nessis un medico che da tempo aveva in cura il 49enne e lei vista la gravità della situazione ha deciso di trasferire il malato al reparto di neurochirurgia dall'ospedale di Alessandria dove è rimasto alcuni giorni prima di morire il padre ha presentato un esposto in procura in questi giorni il PM Fabrizio Givri affiderà l'incarico per l'autopsia solo allora si saprà se si è trattato di una tragica fatalità o se qualcuno dovrà rispondere della sua morte accesso vietato da questa mattina alla palazzina dell'ex moi di Torino dove ieri sera è divampato un incendio al primo piano di uno stabile dell'ex villaggio olimpico da tempo occupato da profughi e da famiglie di migranti alla base del rogo potrebbe esserci una stufetta lasciata accesa oppure una lita finita poi quasi in tragedia sul fatto indagano i carabinieri arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli assessori all'ambiente e alla sicurezza del comune di Torino Alberto Unia e Roberto Finardi l'incendio ha subito creato reazioni da parte politica con il presidente della circoscrizione 8 Davide Ricca che ha chiesto tempi certi per la liberazione delle palazzine polemiche anche da parte dei fratelli d'Italia per i quali il piano comunale di sgombero dell'ex moi si sta rivelando un fallimento complice un autunno quasi estivo il perdurare della siccità che da molti mesi imperversa su gran parte del nord Italia i sindaci iniziano a demanare decreti per l'uso dell'acqua potabile sta cadendo nell'Ovadese precisamente a San Cristoforo Castelletto d'Orba e Parò di Ligure dove da questa mattina e probabilmente per dieci giorni o almeno fino a quando non pioverà i cittadini non possono usare l'acqua che sgorga dei rubinetti per uso alimentare a causa della presenza di ferro e manganese sopra alla norma il disagio è causato dall'esigua quantità di acqua rimasta nell'impianto di Madonna della Rocchetta dove l'aco spesca all'approvvigionamento per i paesi interessati all'ordinanza di divieto i sindaci hanno fatto collocare alcune cisterne nei centri dei paesi mentre a Castelletto d'Orba fanno sapere che tutte le fontane sono agibili e potabili si apre uno spiraglio nella trattativa tra i lavoratori dell'outlet di Saravalle Scrivia e la direzione del più grande centro commerciale d'Europa ieri l'incontro in prefettura ad Alessandria durante il quale si è impostato un percorso di dialogo tra le parti sul tavolo della contrattazione non ci sarà solo la questione delle apertura nelle giornate di festività che nel giorno di Pasqua come vi ricordate avevano portato non pochi problemi con uno sciopero di parecchie maestranze ma anche la sicurezza dei dipendenti e il dibattito sui contratti nazionali ci spiega tutto Alessandra Della Cà La trattativa tra i sindacati che rappresentano i lavoratori dell'outlet di Saravalle Scrivia e la proprietà sull'intenzione di aprire il centro commerciale più grande d'Europa nei giorni di festività è stata rinviata al prossimo 27 novembre il che sembrerebbe un ulteriore protrarsi del tavolo di contrattazione invece grazie alla mediazione del prefetto di Alessandria Romilda Tafuri che ha ricevuto le parti ieri si è preso del tempo per individuare un percorso di cui discutere legato non solo alle aperture nel giorno di Pasqua come successo o in quello di Santo Stefano come potrebbe accadere ma ad una serie di richieste più ampie la direzione dell'azienda ha infatti sottoscritto un verbale su richiesta di CGL, CISL e UIL che avvia appunto un percorso univoco volto a trovare dei punti condivisi si tratterà degli orari di lavoro ma anche della sicurezza dei lavoratori e dell'applicazione dei contratti nazionali ci sarebbe insomma la volontà di raggiungere un'intesa che metta d'accordo le esigenze dei circa 2.000 lavoratori del Serravalle Outlet con le scelte della Mercator Glen i lavoratori si riuniranno in assemblea giovedì sera al centro fieristico di Novi per discutere insieme ai sindacati come gestire il mese che li avvicina all'appuntamento del 27 novembre Lega Ambiente ha presentato un dossier sull'idroelettrico e sulle battaglie combattute nell'Ovadese per tutelare i torrenti e il territorio Fabrizio Mattana Continua la battaglia di Lega Ambiente dell'Ovadese in difesa dei torrenti e contro le costruzioni di centraline idroelettriche mentre sembra risolto una volta per tutte il caso del torrente Stura in località Mulino desta ancora preoccupazione quello relativo al torrente Piotta in località Pieve dopo aver esposto in conferenza dei servizi il punto di vista degli ambientalisti che per la maggior parte coincide con quello di sindaci e abitanti della zona Lega Ambiente ha voluto fare il punto della situazione in un'assemblea pubblica discutendo il primo dossier sull'idroelettrico pubblicato recentemente e analizzando le varie situazioni locali si è parlato non solo dei progetti su Piotta e Stura ma anche di un terzo ormai archiviato riguardante l'Orba a Molare il titolo dell'incontro era idroelettrico impatti e nuove sfide nell'epoca dei cambiamenti climatici con i relatori Vanda Bonardo della Presidenta del Comitato Scientifico Nazionale e responsabile nazionale di Lega Ambiente Alpi Giampiero Godio responsabile del settore energia e Michela Sericano Presidente della sezione cittadina si sono analizzati i contesti ambientali in cui si opera in questi anni che devono tenere conto di numerosi fattori fra i quali l'aumento di quasi 2 gradi centigradi di temperatura sulle Alpi e dei continui prelievi sui corsi d'acqua ridotti a meri rigagnoli problemi che devono indurre ad un ripensamento globale della questione il dibattito pubblico che ne è scaturito ha fornito numerosi spunti e idee lanciate anche dai singoli cittadini il dossier oltre ai temi sopracitati descrive anche i contesti normativi riguardanti non solo l'Ovadese ma tutte le regioni del nord Italia globalizzazione e finanza sono state al centro della chiusura dell'anno formativo della scuola forense di Alessandria sentiamo una conferenza sugli aspetti giuridici ed economici della globalizzazione e finanza nell'Europa Unita relatori professori universitari Giuseppe Di Gaspare Alessandro Mancia Pier Mario De Muro ha chiuso l'anno formativo della scuola forense Giorgio Ambrosoli di Alessandria si è tenuta a Palazzo Monferrato nel corso dell'iniziativa i tirocinanti avvocati hanno ricevuto i relativi diplomi e si apprestano a frequentare il modulo intensivo in vista dell'esame di Stato che si terrà a novembre prima dei relatori sono intervenuti Pieromonti e Roberta Lombardi rispettivamente presidente e direttrice della Giorgio Ambrosoli la scuola forense sostenuta dai consigli dell'ordine degli avvocati di Alessandria Novara Vercelli e Verbagna si è affermata nel panorama nazionale avendo ottenuto riconoscimento importante per l'attività svolta sia dal consiglio nazionale forense sia dalla scuola superiore dell'avvocatura di Roma da parecchio tempo durante le conferenze che aprono e chiudono le attività la scuola inserisce un momento culturale sovente musicale i cui protagonisti sono sempre giovani perché si ritiene che gli avvocati debbano essere anche persone di elevata cultura per l'occasione hanno suonato il quartetto Cesar Franca e la violoncellista Margherita Succio interpretando musiche di Shortino e Schubert dalla maratona ai fornelli e quanto è accaduto alla maratoneta olimpionica Valeria Stranio che per una mattina ha lasciato a casa le scarpette per indossare il grembiule di un giorno da chef intervistata dallo chef Domenico Sorrentino la Stranio ha raccontato la sua storia non solo quella sportiva tra poco proprio nella pagina sportiva alcuni stralci della trasmissione poi la rubrica delle notizie utili e anche il meteo grazie per averci seguito arrivederci